In questo video ci occuperemo di investimenti tematici ed in particolare del megatrend legato alla mobilità del futuro. Tra i megatrend proposti da Lixor non poteva mancare quello della mobilità del futuro. Le persone si muovono da sempre ma hanno cambiato il loro modo di farlo o quantomeno lo stanno facendo. Pensate che si è passati da muoversi a cavallo fino ai treni con la rivoluzione industriale. Ci sono state le auto, oggi le auto vanno nella direzione dell'ibrido, dell'elettrico, ma non c'è solo questo perché c'è tutto un mondo di aziende legato all'indotto. Ci sono i treni a minor impatto ambientale, addirittura alcuni di questi sono veramente futuristici e quindi un megatrend che noi da investitori dobbiamo valutare, dobbiamo conoscere e sul quale abbiamo la possibilità di investire grazie all'etf creato da Lixor. Ma facciamo un passo indietro e vediamo come MSCI abbia creato proprio un indice che va a scandagliare, a trovare quelle che sono le aziende più legate a questo tipo di attività, ovvero la mobilità del futuro. La cosa interessante è che poi viene fatta una selezione di queste aziende e si vanno a vedere quelli che sono i ricavi, i ROI, ma soprattutto le spese in ricerca e sviluppo perché in questo momento è molto importante andare a selezionare quelle aziende che investono molto. Ovviamente c'è anche un filtro di responsabilità sociale, quindi l'ESG, perché ovviamente si va in quella direzione e il mondo sta andando in quella direzione, quindi si evita di andare a investire in quelle aziende che hanno dei business controversi. Ma veniamo quindi all'etf che vi ricordo investe in aziende anche a piccola capitalizzazione o a media capitalizzazione e per non diventare mai obsoleto a una politica di revisione del paniere attiva per il tramite di un esperto esterno che ogni anno va a reinserire le parole chiave e a rimodulare quello che è il paniere. Ma andiamo a vedere le informazioni principali, vi segnalo a tutte le aziende, qui trovate i primi dieci componenti, le cose interessanti sono queste, a differenza degli altri etf, laddove la componente di IT era preponderante, qui abbiamo anche aziende di carattere industriale, insomma, quindi legate all'industria vera e propria, diciamo quella un po' più tradizionale, sebbene orientata alla ricerca, allo sviluppo e al futuro. Per quanto riguarda invece l'esposizione valutaria, il dollaro la fa da padrona con oltre il 50% delle aziende che sono quotate in dollari, ma come potete notare abbiamo un'esposizione alla valuta cinese, allo yen, all'euro e ad altre valute. Per quanto riguarda la scomposizione geografica, anche in questo caso è normale che gli Stati Uniti abbiano il peso più rilevante, ma il 14% di esposizione sulla Cina non è poco e soprattutto non è poco il 10% sul Giappone, che come sappiamo è un paese che storicamente è stato sempre molto forte in ambito motoristico, insomma, anche a livello di innovazione. Per quanto riguarda appunto i componenti principali, vado a scorrere qualche aziende, segnalo per esempio Avis, che come potete notare è attiva in quella che è il mercato delle auto a noleggio, ma soprattutto in quello che potrebbe essere in futuro il noleggio a lungo termine o la possibilità di fare del car sharing, quindi sicuramente un'azienda all'avanguardia. Non c'è solo questo, vi parlavo di aziende dell'indotto, ebbene c'è questa società cinese, Tianqui Lithium, che è attiva proprio nella produzione di batterie a litio e non solo, legate proprio a questo tema della mobilità del futuro. Ma andiamo quindi a vedere quelle che sono le informazioni utili che dobbiamo sapere su questo ETF, che vi ricordo, avendo una componente azionale, avendo un beta piuttosto elevato, è soggetto a forti variazioni, quindi potrebbe essere corretto investire una parte modesta del proprio patrimonio su questa, che comunque rappresenta una visione del futuro a lunghissimo termine. Ebbene, la metodologia di replica è di tipo diretto, la politica di distribuzione è a capitalizzazione e come potete notare è quotato su Borsa Italiana. Qui trovate il codice ISIN che è molto utile perché inserendolo all'interno del vostro conto online o all'interno della vostra piattaforma di trading, vi darà accesso appunto a questo prodotto in maniera univoca. Per quanto riguarda invece la voce di costo, è interessante segnalare come questi ETF fino a settembre del 2021 avranno un total expense ratio dello 0,15 che è di molto sotto la media, poi passeranno allo 0,45 che è comunque poco per un ETF di carattere tematico. Grazie a tutti!